... Lance, siamo pronti? Eh, vediamo, mica tanto, però vabbè... Le tue carte, dove le punti? Vertical o individuale? Vabbè, le mie carte sono più sul vertical, visto che anche l'anno scorso, quando non ero tanto in pompa, riuscivo a portare fuori buone perf, credo vertical. Folla, alla tua grande entrata nel circuito di Coppa del Mondo? Prima uscita. Prima uscita e speriamo di far quella figura, vai. Punti sull'individuale o la vertica? Facciamo tutte e due, dopo quello che viene, viene. Al semaforo girare a sinistra e avrà raggiunto la sua destinazione. Oscar, programma della giornata? Mangiare alla grande, direzione Andorra e poi vediamo. Qual è il programma di questi due giorni di Coppa del Mondo? Eh, domenica la bella vertica, con tutti i senior e poi la domenica con l'individuale race. Vediamo. Grazie.